Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, grave lutto per il giornalismo italiano, si è spento nelle scorse ore il noto personaggio e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video parliamo di un grave lutto sia per il mondo del giornalismo che per il mondo della televisione. A 84 anni, nelle scorse ore si è spenta una firma importante del giornalismo italiano, con grande dispiacere che il primo anno di Marco Liguori annuncia il decesso del giornalista italiano Salvatore Ricciardini, uno dei volti di punta di video Siracusa, storica emittente diretta dallo stesso giornalista per molti anni, In questo video, parafrasiamo le parole dell'ex presidente della provincia di Siracusa, Bruno Marziano, che scrive Salvatore Ricciardini, ha interpretato in un modo molto singolare il suo amore per la sua terra giornalista, per raccontare storie, contraddizioni, politico, per sviluppare progetti, A favore della sua città sindacalista per stare accanto e curare gli interessi dei lavoratori e dei ceti popolari, con queste parole ricordiamo Salvatore Ricciardini, orgoglio siciliano e giornalista molto apprezzato in tutta Italia, il noto giornalista è mancato, ha 84 anni amici di YouTube, Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti